Il fil rouge che collega la serie delle sorelle Mitford e Downtown Abbey è il periodo storico, il periodo fra le due guerre mondiali, quando di fatto appunto il vecchio mondo si sgretolava a causa appunto dell'avvento delle due guerre e c'erano tantissimi cambiamenti, tantissime discrasie ma anche tantissime analogie e in effetti rappresenta questo quello che è il mondo che mi ha descritto il mio zio, il mondo che in un modo o nell'altro cambiava proprio con Upstairs, Downstairs. È una cittadina assolutamente meravigliosa, io sono felicissima di essere qui, mi avevano detto prima di venire qui che era una bellissima città, le aspettative erano inferiori alla realtà, sono molto molto contenta anche se come sciatrice scendere non è proprio il mio forte, preferisco salire da escursionista, rimane una cittadina meravigliosa. Poi mi hanno raccontato per esempio che ci fu un blackout di 36 ore nel 2013, ecco ho immediatamente pensato che potrebbe essere l'inizio di una trama avvincente, quindi se mi volete io ritorno molto volentieri. Grazie.